8.000 studenti coinvolti in un percorso iniziato 25 anni fa. È il progetto scuola-lavoro della Camera di Commercio di Arezzo che ancora quando il tema non era di stretta attualità aveva ritenuto fondamentale avvicinare i ragazzi al mondo delle imprese, oggi più che mai dopo anni di crisi e dove spesso non combaciano richiesta e domanda di lavoro. I progetti che sono stati presentati, le realizzazioni dei ragazzi sono realizzazioni straordinarie, i ragazzi portano creatività, portano ingegno, portano innovazione. Non è un caso che molti di questi progetti realizzati dai ragazzi con le imprese della provincia abbiano un'utilizzazione concreta, abbiano una registrazione brevettuale, trovino una finalizzazione in quello che è il mondo delle imprese. Ad aggiudicarsi questa edizione il liceo artistico coreutico Piero della Francesca di Arezzo e Danghiari con il progetto Short Course Fashion Styling 2017, l'azienda committente alla Lebole di Arezzo. I ragazzi hanno pensato e progettato uno degli abiti da sposo a Marchio Lebole in vendita in questo momento che risulta anche essere uno dei più venduti. Qual è il vostro progetto? Cosa avete realizzato? Il nostro progetto è la mano bionica e si è suddivisa diciamo in più step. È una mano che dovrebbe aiutare le persone, anzi no, che aiuta le persone più sfortunate di noi che magari hanno delle menomazioni agli arti. Diciamo che anche se non abbiamo fatto test effettivi e che sicuramente faremo, ci sono stati dei sconti positivi e abbiamo fatto vari test che si possono notare anche nel video per dimostrare quanto sia veritiero il funzionamento del nostro progetto. Grazie.